Tentato omicidio, tentata rapina in concorso e porto e detenzione illegale di arma da fuoco. Con queste accuse i carabinieri di Palma di Montechiaro hanno arrestato un 21enne del luogo, Calogero Napoli, e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, due minori ritenuti spalleggiatori del giovane. Napoli avrebbe tentato di rapinare un negozio di Comproro, sito in via Fiorentino. Forse, non riuscendo a portare a termine il proprio intento, il giovane ha sparato un colpo di pistola contro la commessa, che fortunatamente non è stata raggiunta dal proiettile, dandosi poi alla fuga a bordo di due scooter condotti da due minori. Sul posto si sono recati i carabinieri della locale stazione, che hanno sin da subito avviato le indagini, rintracciando ed arrestando il 21enne. Espletate le formalità di rito, Calogero Napoli è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Agrigento a disposizione dell'autorità giudiziaria.